La bellezza è un sostantivo, un sostantivo femminile. Belle-le-za. La ricerca del vero attraverso la sacralità della bellezza è il tema dello spettacolo inscenato al Teatro Cliturno di Trevi dalle ragazze della Casa per Disabili Monsignor Bonilli di Trevi, gestita dalle suore della Sacra Famiglia. Le fragili attrici, dirette da Graziano Sirci con la collaborazione di Valeria Rossi e Pina Cavallaro, hanno emozionato la platea in una pièce che le ha viste non solo nelle vesti di attrici ma anche di autrici dei testi poi interpretati sul palco. Il tutto all'interno del progetto terapeutico rieducativo coordinato da Maria Assunta Pierotti e portato avanti dalle suore della Sacra Famiglia, uno spettacolo arricchito dalla partecipazione dell'attrice Anna Leonardi e della sound artist Paola Saracini. E l'applicazione che le ragazze del Bonilli hanno messo sul palco adattando i loro corpi e la loro voce alle esigenze della teatralità è stata la vera bellezza raccolta nell'applauso finale che il pubblico, anche un po' commosso e positivamente stupito per la qualità dello spettacolo, ha tributato a queste straordinarie attrici.